Le cicche rappresentano il 40% dei rifiuti tossici del mar Mediterraneo. Un miliardo e mezzo di fumatori buttano cicche per terra. Ogni cicca ci impiega 10 anni per essere smaltita. I rifiuti tossici più dannosi ancora di quelli industriali sono le cicche. Avere la possibilità di una scatoletta nella quale io da sempre metto la mia cicca perché sono una fumatrice impedisce e evita l'accumularsi di questo rifiuto altamente tossico. Stamattina distribuiamo scatolette della liquirizia amarelli e delle caramelle senza zucchero di metallo, alcune vuote, alcune piene, invitando i fumatori a conservarle come porta cicche da borsa. Aiutare i cittadini, bisogna aiutarli a acquisire pratiche a consuetudini igieniche e rispettose dell'ambiente e anche delle persone che abbiamo intorno per il mare, per la spiaggia, per la scuola, per la città.